Maria Baio è la Presidente dell'Associazione Le Orchidei, da sempre attiva sul nostro territorio con tante iniziative. È quest'oggi qui con noi per presentare un nuovo progetto intitolato Parpol con scadenza il prossimo 31 ottobre. Avete partecipato ad un progetto della Regione Marche, avete vinto questo bando, ma di cosa si tratta nello specifico? Sì, noi delle Orchidei insieme all'Università di Camerino e alla COS Marche abbiamo adire a questo bando. In teoria si tratta di borse studio e borse lavoro dedicate alle donne che hanno avuto un carcino malseno o che hanno un carcino malseno. Purtroppo tante donne dopo la malattia hanno perso il posto di lavoro o non riescono a lavorare e a fare lo stesso lavoro. Allora tramite questo progetto riusciamo a inserire nel mondo del lavoro la donna tramite anche delle ditte che ci hanno dato dei posti, hanno diritto per avere dei posti di lavoro. Una borsa di studio rivolta in questo caso a chi? La borsa di studio è rivolta alle donne che già lavorano ma vogliono cambiare mansione o vogliono darsi un'altra opportunità nella vita. Quindi avranno una formazione di tre mesi, potranno dopo decidere se effettivamente continuare il loro lavoro o cercare altre opportunità. Diverse come dicevi le aziende che hanno aderito a questo progetto? Sì, al momento ne sono tredici che hanno aderito a questo progetto e quindi invece per la borsa lavoro danno l'opportunità a dodici donne disoccupate che vogliono mettersi in prova, vogliono ritornare a lavorare. E questa è un'opportunità grande da sfruttare perché la donna ha già vinto la battaglia contro il tumore ed è giusto che ritorni incareggiata come tutti quegli altri. Chi volesse partecipare cosa deve fare? Deve inviare il proprio curriculum vitae alla nostra mail leorchidee.ts.gmail.com Dopo verrà rimandato un link dove ci saranno tutte le istruzioni da seguire. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre. Un invito ad aderire a questo progetto? Abbiamo già vinto la battaglia contro il tumore. Non è giusto rimanere indietro. Diamoci un'altra opportunità. È importante per ogni donna. Non è giusto rimanere indietro.